Delle novità sul piano della sicurezza e dell'ordine pubblico ci saranno sicuramente. La richiesta è arrivata direttamente dalle forze dell'ordine dopo le intemperanze dello scorso giugno, soprattutto durante il corteo storico e successivamente in Piazza Grande. Ad annunciare le novità il sindaco Alessandro Ghinelli che non si sbilancia al riguardo, volendo prima imparlarne con i rettori. Allo stesso tempo il primo cittadino ha invitato quartieristi e figuranti alla correttezza. De novità non so quanto significative e importanti, ma comunque delle novità sì, che stiamo discutendo oggettivamente con le forze dell'ordine su richiesta espressa di queste ultime, ma che non rendo note perché devo ancora interfacciarmi con i rettori e con i quartieri. Però io credo che qualsiasi misura si possa prendere è inefficace o può essere vanificata dai comportamenti. Quindi ho fatto un appello chiaro e forte ai rettori perché veicolino nei loro quartieri un messaggio di correttezza di comportamento. Ci vuole dinamismo, ci vuole la forte volontà di vincere la lancia, ci vuole, se vogliamo, anche l'antitesi rispetto al quartiere avversario, ma sempre nell'ambito della correttezza. Questo perché? Perché se la nostra giostra, che è nostra, è a rettina e per noi, vogliamo che diventi un simbolo di Arezzo verso l'esterno, non può essere sciupata da pochi episodi veramente esecrandi. Credo che abbiano capito, si sono impegnati tutti e quindi mi aspetto al di là delle modifiche che insieme alla questura, ai carabinieri, ma soprattutto al prefetto, prenderemo nei prossimi giorni e il risultato lo daranno i comportamenti dei quartieristi.